e questo è il modello di quadrettino che lo lavoreremo oggi insieme è un bellissimo fiore a otto petali che poi lo trasformeremo in un quadrettino io ho cominciato qua con questo modello a creare una sciarpa ok cominciamo con otto catenelle quindi facciamo il nostro nodino iniziale prendiamo il secondo sopra il primo primo sopra il secondo lasciandolo scivolare tiriamo la codina che stavolta la dobbiamo lasciare un po' più lunga quindi lasciate una codina generosa ok, tiriamo il filo per creare il nostro anello iniziale facciamo otto catenelle due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto otto catenelle che andiamo a prenderle chiuderle in un cerchio quindi infiliamo l'uncinetto nella nostra prima catenella e facciamo un punto bassissimo ecco qua il nostro cerchio adesso facciamo 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto e ne lavoriamo nel centro del cerchio ancora 3 uno, filo sull'uncinetto passiamo l'uncinetto nel centro prendiamo il filo due e ancora un punto alto tre per avere quattro punti alti facciamo 3 catenelle giriamo il lavoro col rovescio verso di noi e facciamo ancora tre punti alti nei tre punti alti precedenti uno due e il terzo lo lavoriamo nella terza catenella del nostro punto alto iniziale quindi proprio qua prendiamo eh sì a volte diventa un'impresa proprio difficile no non tanto ma ok preso ok abbiamo ancora 4 ancora un gruppo da 4 punti alti adesso facciamo 9 catenelle due tre quattro 5 6 7 8 9 catenelle siamo così giriamo di nuovo il nostro lavoro col davanti verso di noi siamo in questa posizione le catenelle le prendiamo nella parte opposta quindi qua entriamo nel cerchio proprio nel centro del cerchio e facciamo un punto bassissimo per prendere il nostro giro da 9 catenelle eccoci qua preso ok lavoriamo ancora un altro petalo cioè questo è già un petalo facciamo il secondo uguale quindi 3 catenelle quindi 3 catenelle 1 2 3 e ancora 3 punti alti lavorati nel centro del cerchio 2 3 per formare il nostro gruppo iniziale da 4 punti alti 3 catenelle 2 2 3 giriamo il nostro lavoro sul rovescio e facciamo 1, 2, 3 punti alti ancora 1 2 e il terzo nella terza catenella iniziale questa qua filo sull'uncinetto infiliamo l'uncinetto nella catenella e facciamo il nostro ultimo punto alto dal gruppo i 4 ok e adesso 9 catenelle 3 4 5 6 7 8 9 siamo sul rovescio giriamo il nostro lavoro sul davanti così e andiamo a prenderlo qua nella parte opposta proprio del petalo diciamo nel diagonale proprio qua andiamo a prenderlo però andiamo con il giro di catenelle da indietro e lo prendiamo con un punto bassissimo secondo petalo fatto adesso perché riusciamo a fare tutti i 8 petali nel nostro cerchio dobbiamo sempre spingere il petalo lavorato lo spingiamo proprio così ok vedete ecco così abbiamo riusciamo a lavorarli perché è tutto qua riuscire a lavorare 8 petali nel cerchio quindi 1 2 3 catenelle il nostro punto alto iniziale più ancora 3 1 2 3 4 punti alti lavorati facciamo 3 catenelle 2 3 giriamo il lavoro a rovescio col rovescio diciamo verso di noi e facciamo ancora 1 2 3 punti alti nei 3 punti alti precedenti del giro precedente 1 2 e il terzo come vi dicevo nella terza catenella del primo punto alto del petalo 3 4 punti alti lavorati facciamo 9 catenelle 4 5 6 7 8 e 9 fate le 9 catenelle giriamo di nuovo il lavoro col davanti verso di noi e qua nella parte diciamo opposta come vi dicevo da indietro no non lo prendiamo così davanti però da indietro andiamo a prendere le 9 catenelle con un punto bassissimo nel centro proprio del cerchio ok spingiamo anche questa per creare posto così bene ecco 3 petali già lavorati andiamo avanti così per ancora 5 volte per finire tutti i petali 1 2 3 poi ancora 3 punti alti 1 2 3 4 punti alti finiti 3 catenelle dopodiché giriamo il lavoro così col rovescio verso di noi e facciamo ancora 1 2 3 punti alti per creare il nostro secondo secondo gruppo da 4 punti alti 1 2 e il terzo nella terza catenella del nostro punto alto iniziale il petalo ecco così secondo gruppo da 4 punti alti finito 9 catenelle 4 5 6 7 8 9 giriamo di nuovo il nostro lavoro sul davanti così e veniamo a prendere come vi dicevo il gruppo da 9 catenelle da indietro lo prendiamo entriamo con l'uncinetto nel centro del cerchio prendiamo il filo e facciamo un punto bassissimo preso e andiamo avanti così quindi facciamo 3 catenelle e ancora 3 punti alti 3 catenelle giriamo il lavoro e facciamo ancora 3 punti alti 1 2 e ancora 1 nella catenella terza catenella dal punto alto iniziale 9 catenelle 5 6 7 8 9 e giriamo di nuovo il nostro lavoro adesso che io siamo all'ultimo petalo 1 2 3 4 5 6 7 8 andiamo a finire il nostro fiore nella terza catenella del nostro punto alto iniziale quindi proprio qua ecco così con un punto basissimo certo finito il nostro fiorellino che c'è tutto con un po' Grazie.